Ciao a tutti, grazie e bentornati in questo nuovo video su DominicTV e oggi siamo su un video piuttosto triste allora incomincio col fatto che un video triste dove parlerò e basta non faremo niente allora due cose due e basta poi bene vado, ci sono video felici e basta la prima cosa il primo fatto è che mi scuso per la qualità del video scorso che faceva schifo era tutto tipo questo una roba del genere non so perché lo fate cercare sul video spero che vi piaccia è tutto e spero che vi piace basta che devo dire spero che vi piaccia è su fiamobile vedete la mia squadra e spero che vi piace vi piace a voi al vostro fratello o a vostra sorella se ce l'avete o ai cugini e tutti spero se non vi piace ditele basta io ditelo e basta vabbè mi sto prolungando ma è la cosa cattiva cattiva altra cosa sono positivo purtroppo sto facendo questo video solo ora la notizia la notizia mi è arrivata penso il 28 marzo e intanto vi auguro vi dovevo augurare buona pasqua ma non l'ho fatto perché ho mangiato le uova di cioccolato mi dispiace vabbè è buona pasqua e sono positivo l'ho scoperto il 28 e basta dispiace ci saranno tanti video spero se ce la faccio spero basta spero e poi forse Franci vi dirà di più io non voglio intanto mettermi tanto su questa cosa io vi dico solo che sono positivo non vi dico perché cosa perché sennò poi si diventano nei commenti c'è tutto senza youtube reattiva però non voglio fare casini ci saranno video oh non preoccupatevi cioè io ci sono sempre oh mio dio mi si è illuminato l'occhio wow vabbè i video ci saranno mi raccomando lasciate like posso mai dislike se non vi piace iscrivetevi attivate la campanina condividete il video e questo si deve fare si deve fare questo e se youtube attiva i commenti commentate e basta e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video perché ci sarà tra poco ci sarà tra poco questo video tranquillo ci sarà non so tra poco quando tra un anno forse un mese decenni millenni secoli non lo so però ci sarà va bene però noi intanto ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao